Agnese, che cosa ha detto l'ultima parola? Non ho capito. Non hai capito, ma insomma è così semplice. Te lo spiego dopo con te. Ah, va bene, caro. Bravito! Scusate, è la pauta questa. Scusate signore, credo abbiate sbagliato i posti. Siete sopra, signora. Guardi, io ho pagato per la platea, assolutamente. Guardi, non lo so, venga. Allora, sì, siete sopra, mi dispiace dirvelo, ma dovete salire. Sono occupati questi posti. Va bene, va bene, andiamo. Perdonatemi signore, avete sbagliato un momento. Di nuovo? Non qui. Ma come? Ma come? Ma devo andare in piccionaia, mi scusi. Sì, mi dispiace. Ma ancora più su non c'è niente. Io ho preso un biglietto in sconto, sinceramente. Sì, capisco e mi dispiace tantissimo. Va bene, guarda, Marisola, non facciamo storie, sennò veramente andiamo. Guarda, prima che me ne vado. Agnese, cara, non c'è niente, non vedo nulla di qua. Guarda, io sento e vedo benissimo. Capito? Ma quando hai speso? No. Ma insomma avrò sbagliato. Pensavo fosse lo sconto, invece era 10 euro piccionaia e 250 palatea. Mi sono sbagliata.